Cari e cortesi amici, il mio staff ha messo a disposizione un forum di discussione ispirato alla democrazia diretta, l'amministrazione è lasciata agli stessi iscritti. Ogni iscritto tramite un voto che va da 1 a 5 stelle, può esprimere la propria stima verso gli altri, così facendogli iscritti ottengano poteri di amministrazione in proporzione alla stima ricevuta. Il forum è virtualmente inaccessibile ai troll, i nostri esperti informatici hanno messo a punta dei meccanismi invollerabili. Nel forum il nostro staff e i nostri renomati collaboratori pubblicano in tempo reale tutte le notizie ufficiali riguardanti il Movimento 5 Stelle, ti invitiamo a partecipare commentando ed esprimendo la tua opinione, il nostro intento è quello di creare uno spazio di dialogo utile nel formare un pensiero collettivo, libero ed indipendente nel quale voi sarete i protagonisti. Il mio compito è quello di riconsegnare al popolo la sovranità nazionale, dopodiché gli impostori della politica faranno la fine dei ratti di fogna. e Grazie a tutti.